Il risultato vede in vantaggio tre volte a zero Il malavoglia, andiamo da qualche protagonista a caldo Catone, Catone, stai perdendo tre a zero, che cosa succede? Che cosa succederà? Succede che stiamo perdendo perché la squadra non è a comprare, ma comunque questa squadra Non stiamo tenendo uniti due reparti Succederà, non lo sappiamo, adesso vediamo di riposarci un po' e di prendere Va bene, bocca al loro il secondo tempo Andiamo da qualche protagonista malavoglia Qualche malavogliete Lei, scusi, quale è il suo nome? Fabrizio Persico Persico, è stato vincendo tre a zero, prospettiva secondo tempo, gestiamo e affondiamo Stiamo giocando benissimo Cerchiamo di gestire la partita, il processo palla Ma comunque cercheremo di affondare il più possibile Il colpo Perché bisogna... C'è lo scontro diretto, Dream Team Ah, ecco, ecco Quindi noi dobbiamo vincere Va bene, bocca al loro il secondo tempo Scusatemi, buongiorno, siamo qui con la Cava e Teti Partiamo dalla Cava, migliore in campo nella partita tra Malavoglia e Sporting Vaticano Se a zero il risultato finale, quattro gol per te Perché migliori in campo la Cava? Vabbè, abbiamo saputo sfruttare quelle occasioni che abbiamo avuto Sì E serviva qualcuno davanti che buttasse la palla dentro Oggi per fortuna La maggior parte della cava Senti, con questa vittoria la vostra squadra si fa prepotentemente avanti rispetto ai risultati precedenti Quindi quali sono le nuove aspirazioni? Oggi era importante vincere perché c'era... Ieri c'è stato lo scontro diretto tra i Dream Team e lo Stribunore Quindi ci serviva per rimanere ancora in vita Ho capito Va bene, dedicami i gol e ti lascio andare No, va bene, non ho la dedica particolare, sono tutti i compagni Va bene, è lui A lui, vabbè, ci vediamo alla prossima Vabbè, è il mio stile Teti, sei gol subiti, tu sei stato il migliore dei tuoi Quindi vuol dire che ne avresti dovuti prendere 12 Ma abbiamo giocato male, non abbiamo fatto praticamente niente questa partita Troppe assenze, mancava quasi tutta la squadra, eravamo tre titolari Va bene, dedicami questa premiazione e ti lascio andare Non c'è niente da dedicare, sono sei gol da subiti Va bene, alla prossima, ciao